In primo piano i contagi da Covid-19 in Abruzzo, 37 nuovi casi registrati oggi, 3 i decessi, un leggero aumento dei ricoveri in terapia intensiva, ma vediamo collegandoci in diretta con Anna Di Giorgio che si trova a Pescara, quali dati emergono, quali ulteriori dati emergono dal bollettino diffuso oggi dall'assessorato regionale alla sanità. Anna, ben ritrovata, dunque oltre ai nuovi positivi, ai decessi, cosa emerge dal bollettino, dal report regionale? Buonasera Gigliola, buonasera a te e buonasera anche ai telespettatori del Tg8. Un bollettino dettagliato, come sempre quello che vi raccontiamo, anche oggi io e Andrea Berardinelli con la telecamera prendiamo infatti la linea da Pescara appunto dal Pallafiere di Via Tirino, dove tra l'altro va avanti la campagna vaccinale. Alle nostre spalle non so se si vedono ancora i volontari che stavano fino a qualche momento fa stavano smaltendo insomma la fila degli ultimi prenotati per le vaccinazioni. Ma di questo poi so che anche nel corso del telegiornale parlerai meglio proprio della campagna vaccinale che va avanti. Invece noi vi raccontiamo proprio i dati contenuti nel bollettino di oggi, di questo. Lunedì 3 maggio 2021 finisce la prima giornata di una seconda settimana in cui l'Abruzzo si sveglia in zona gialla insieme ad altre regioni italiane e questo significa che ovviamente così come disposto dal cronoprogramma del decreto Draghi si andrà avanti anche verso nuove riaperture e nuove ripartenze. Ma veniamo ai dati. Dicevi bene, 37 nuovi contagi in più in questa giornata di età compresa tra 2 e 79 anni su 1.384 tamponi molecolari e 669 tamponi rapidi. La percentuale dei positivi in questo caso è dell'1,8%. I deceduti purtroppo fanno registrare un più 3 in questo bollettino e portano il totale dei morti a 2.415. I tre decessi riferiti nel bollettino di oggi hanno un'età compresa tra 49 e 88 anni. Il numero dei dimessi guariti è buono, fa registrare un più 155 in questa giornata e anche il numero degli attualmente positivi con gli attuali appunto 8.612 scende di 121 unità. Gli ospedalizzati in tutta la regione sono 360, in questo caso il bollettino fa registrare un più 5. In terapia intensiva, lo hai detto anche all'inizio del collegamento, ci sono tre nuovi ricoveri e il numero appunto dei posti occupati in terapia intensiva sale a 34. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asli invece abbiamo 8.218 persone, meno 129 questo è il dato da registrare. La provincia che ha oggi fatto registrare un maggior numero di contagi è quella di Pescara con un più 19, seguita da quella di Chieti con un più 16 e poi da quella dell'Aquila con un più 7 nuovi contagi. È stabile dunque e invariato il numero dei positivi nella provincia di Teramo che nel bollettino di oggi non fanno registrare alcun nuovo contagio. Questi i dati del bollettino sanitario che troveremo in maniera dettagliata ovviamente nella voce approfondimenti del nostro sito internet e quindi Gigliola se non hai domande da studio ti restituiamo la linea mentre vedete che si sta svuotando anche lentamente il paladanelli dove appunto sono in corso le vaccinazioni anti-Covid.